Che cos'è la merce per Karl Marx? La merce per Marx occupa un ruolo centrale in ogni sistema economico, ma essa assume all'interno dell'economia capitalistica un vero e proprio ruolo dominante, il capitalismo ruota intorno la produzione di merci, la distribuzione di merci, l'allocazione di merci, la vendita di merci. Il capitalismo dunque è proprio un'economia che si costituisce, si costruisce intorno appunto alla merce. Nel capolavoro di Marx, Das Kapital, l'autore prende proprio in esame come la merce diventi il motore di tutto il sistema capitalistico e per analizzare questa dinamica comincia subito con il fare una distinzione importante. Il capitalismo è un'economia che si differenzia dall'economia feudale perché è appunto un'economia finalizzata al profitto. Il feudalesimo, come anche le economie antiche, asiatiche, orientali, greche o romane, il feudalesimo è un'economia di sussistenza, cioè un'economia in cui la merce viene prodotta per riprodurre tendenzialmente l'esistenza, per soddisfare dei bisogni primari, secondari, ma non è prodotta per accumulare ulteriore capitale, per accumulare profitto e capitale, da reinvestire per di nuovo conquistare mercati, acquisire nuovo profitto e nuovo capitale. L'economia dunque feudale, l'economia medievale, l'economia di sussistenza la si può dunque disegnare con questa equazione, la si può formulare in questo modo. Io ho una merce, freccia, che ha un valore, denaro, la quale freccia mi porterà ad avere un'altra merce. Dunque io ho una merce, ad esempio le uova, queste uova hanno un valore, io le vendo o le baratto per avere un'altra merce, ad esempio un paio di scarpe. Ecco dunque che un'economia di stampo medievale, feudale, un'economia di sussistenza, la produzione di merci è finalizzata ad acquisire un valore da poi utilizzare per acquisire un'ulteriore merce. Dunque la merce ha un valore, denaro, capitale, che serve per acquistare, avere, entrare in possesso di un'altra merce. Invece l'economia capitalista è un'economia che si fonda sul capitale, certamente sul denaro, il quale è il punto di partenza. Il denaro, il capitalista, il padrone che ha il denaro, il piccolo, medio o grande imprenditore che ha del denaro, utilizza esso per produrre delle merci, ma per farlo ha bisogno di acquistare delle merci, il capannone, acquistare delle merci, i lavoratori, al fine di produrre altre merci. Compro merci, il capannone, la catena di montaggio, il computer, compro merci che hanno il lavoro vivo, l'impiegato, il tecnico informatico, l'operaio, il metalmeccanico, l'ingegnere, al fine di produrre altre merci. Ovviamente un database, un'automobile, uno smartphone, un libro, un fumetto, delle uova, va bene? Dunque io ho del capitale, compro merci per produrre merci e per ottenere di primo, per ottenere più denaro di quanto io ne avessi all'inizio. Dunque denaro, merce, più denaro. Con quel più denaro io comprerò altre merci per ottenere, merce uno, ancora più denaro di due, ancora più capitale. Ecco dunque che l'economia capitalistica, a differenza dell'economia di sussistenza, è finalizzata all'aumento del profitto, all'acquisizione di capitale e tutto ciò può avvenire grazie all'acquisto di una merce particolare, una merce che produce più lavoro, più valore lavoro, rispetto a quanto essa riceva in cambio nel salario, ovvero il lavoratore. L'economia di sussistenza e l'economia di mercato capitalistica ruotano intorno alla merce in modo dunque diverso. Una cosa non cambia, però dice Mario. Ogni merce ha un valore d'uso e un valore di scambio. Il valore d'uso è il motivo per cui una merce viene prodotta. Una penna ha un valore d'uso, quella di essere appunto utilizzata per scrivere. Un'agenda ha un valore d'uso e appunto un oggetto su cui scrivere. Un sigalo ha un valore d'uso, quello di essere appunto fumato. Lo smartphone ha tanti valori d'uso, è un'agenda, è un telefono, è ormai un computer portatile. Ogni merce ha un valore d'uso e viene prodotta se qualcuno lo utilizza appunto per qualcosa. Poi uno ne può fare degli utilizzi appunto bizzarri o non consoni al primario utilizzo. Posso comprare delle uova per farla frittata o per tirarle appunto ad un cantante che ha fatto un concerto pessimo entro nelle illegalità, però io le ho comprate per appunto tirarle contro un cantante. Ho comprato le uova per fare una torta, una torta per poi mangiarla o per tirarla in faccia appunto nel gioco delle torte in faccia. Non importa poi l'utilizzo che io farò di quella merce, ma deve appunto avere un utilizzo. L'automobile per spostarmi, no l'automobile per andare a delle gare di automobili, oppure un'automobile appunto per passeggio, per passare nella via principale e farmi ammirare per l'automobile che ho comprato. Un'automobile per spostarmi, un'automobile per lusso, un'automobile invece per gareggiare. Tre utilizzi diverse, ma io alla fine l'ho comprata perché mi serve il valore appunto d'uso. Ma poi una merce ha un altro valore, è il valore di scambio. Il valore di scambio è il valore appunto attraverso cui, a partire da cui noi scambiamo una merce. Difficilmente scambieremo appunto un paio di occhiali per un sigaro, perché il sigaro, a meno che non sia un sigaro ultra pregiato appunto, non avrà il valore degli occhiali. Questo valore di scambio che fa sì che io non scambi degli occhiali per un sigaro, che non scambi appunto una panda per una ferrare, che non scambi l'iPhone 9 10 per l'iPhone 3. Da cosa è dato? Che cosa stabilisce appunto il valore di scambio? Marx dice che il valore di scambio è dato dalla quantità di lavoro necessario a produrre quella merce. Lavoro intellettuale, lavoro fisico, dunque l'ingegnerizzazione di un'automobile, l'ingegnerizzazione appunto di una casa e poi i materiali usati per quell'automobile, i materiali usati per quella casa, le ore di lavoro per quell'automobile, per quella casa. Allora io non scambio un monolocale per un appartamento di sette stanze di 150 metri quadrati e uno scambio appunto una panda per una Ferrari, perché la quantità di lavoro manuale, intellettuale, la quantità di merce, la qualità di merce utilizzate è diversa, ma alla base c'è la quantità di lavoro necessario per produrre e dunque per produrre una casa e un appartamento a sette stanze di 150 metri quadrati ci vorrà di più, servirà più lavoro nel progettarlo, nel realizzarlo di quanto non ne serva per realizzare appunto un appartamento di 50 metri quadrati. Questa è la quantità di valore necessario per produrre una merce che avrà dunque un valore di scambio diverso, per quello uno scambio appunto una mucca con una gallina anche. dal valore di scambio nascerà poi il prezzo, il prezzo è fatto da tante altre cose, il prezzo è fatto dalla domanda dell'offerta, il prezzo è dato dalle mode, il prezzo è dato dalla particolarità di quella merce che magari ha avuto un scarso valore di scambio, ma è una delle poche merci rimaste e io sono un collezionista e dunque la pagherò tanto. Dunque il prezzo di una merce non è dato dal valore di scambio in toto, e il valore di scambio è un punto di partenza da cui fare il prezzo. È ovvio che il valore di scambio di una Ferrari è superiore al valore di scambio di una Panda, pertanto la Ferrari costerà di più. Anche è l'absurdo se sono un collezionista di Panda e quella è l'unica Panda rimasta a seguito di incidenti rotture o meno, io quella Panda la pagherò come una Ferrari perché è l'ultimo modello di Panda che rimane per completare la mia collezione. Dunque il valore d'uso e il valore di scambio fanno le merci. Tra tutte le merci viene una in particolare, ed è l'uomo. L'uomo come operaio, operaio manuale, operaio intellettuale, l'uomo come non possessore dei mezzi di produzione, è una merce compatta dal padrone, è una merce particolare che trasforma appunto attraverso il suo lavoro, semillavorato, trasforma la terra, trasforma nell'industria, trasforma e produce merci che hanno poi un valore d'uso e di scambio che le fa entrare nel mercato e nel mercato il capitalista che grazie al lavoro vivo dell'operaio può accumulare appunto profitto. Ma quel semilavorato non diventa un corsetto delle mutande, quel semilavorato non diventa un'automobile, quel semilavorato o tutto quel materiale non diventa uno smartphone. Il capitalista ha i mezzi di produzione, con i mezzi di produzione compra il lavoro, ma il lavoro trasforma tutto in una merce che poi verrà venduta e permetterà al capitalista di acquisire appunto profitto. Dunque il profitto deriva dal fatto che il padrone, avendo l'operaio dei mezzi di produzione, utilizza, sfrutta il lavoro del lavoratore, il quale in cambio del valore lavoro che dà al proprio padrone ottiene un valore lavoro molto più basso all'interno del salario. Si chiama plus valore. Il plus valore è il plus lavoro dato gratuitamente dal lavoratore appunto al proprio padrone. Il plus valore o plus lavoro non fanno ancora il profitto perché poi il padrone dovrà da quella grande quantità di plus valore plus lavoro togliere le spese e da lì sarà il suo profitto. Voi capite che il plus valore o il plus lavoro dei lavoratori del tessile per Zara in Birmania o in Thailandia fanno sì che Zara ad esempio può accumulare una quantità di profitto altissimo e potrà anche poi utilizzare questa grande quantità di profitto per moda, per ampliare ovviamente le proprie sedi, per aprire nuovi negozi, proprio perché la quantità di plus valore, cioè di lavoro gratuito dato dagli operai in Birmania è altissimo. Questo è il concetto di merce, di merce umana che produce plus valore, di merce che ha un valore di scambio, che è la quantità di lavoro necessario per produrla e di merce che ha un valore d'uso. Marx aggiunge un altro concetto importante, il feticismo delle merci. Le merci a un certo punto fuoriescono dalla produzione e diventano enti e entità esistenti di per sé, che gli stessi lavoratori venerano dimenticandosi che essi, queste merci, esse, sono appunto il frutto del proprio lavoro, ma poiché le perdono, le merci prodotte entrano nel mercato e il lavoratore che ha costruito quella borsa di Gucci, quella cintura di Prada, la osserva in vetrina, la venera, la vuole acquistare e la paga molto 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 di più rispetto a quanto lui ha guadagnato per poterla costruire, per poterla fabbricare. Questo elemento di feticismo del lavoro è un altro elemento da connettere all'alienazione del lavoro e allo sfruttamento del lavoro, che sono il perno, la costante attorno cui ruota ovviamente un'economia capitalista fondata sull'accumulo della ricchezza e dei profitti.